La storia europea vive forse la sua fase più critica. Nel giorno dell'anniversario dell'Unione lo dichiara il Presidente della Repubblica che, guardando ad est, afferma che il nostro vicinato è segnato da crisi che sarebbe illusorio ritenere confinate a focolai localizzati. Sergio Mattarella ripete le parole espresse nel 1950 dall'allora Ministro degli Esteri francese Robert Schumann che propose la creazione di una comunità di stati per la fusione della produzione di carbone e acciaio convinto che la pace mondiale fosse da salvaguardare con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli e minacce e l'Unione Europea ha saputo affrontare con successo le sfide prosegue il Capo dello Stato ricordando che tra qualche settimana i cittadini dei 27 stati saranno chiamati alle urne un grande esercizio di democrazia afferma Mattarella che invita gli elettori a prendere in mano il destino della civiltà europea come fecero i padri fondatori e a rendersi protagonisti per plasmare il governo di un'Europa unita, in pace e dinamica.